C'è spazio per Taylor che non ha timore a realizzare dall'arco dei 6.75 Si butta dentro Reggio Emilia, poi lo scarico per Brandon Taylor E' scatenato il numero 11 di Reggio Emilia Taylor con tanto spazio da tre punti, gran movimento di Brandon Taylor Taylor ancora lui, anche per lui risposte importanti Invece Brandon Taylor scavalca con esperienza dal basso Invece Brandon Taylor